bravissimo infatti Gregorio non ti puoi proprio guardare nulla perché sei stato fantastico il più giovane, il più giovane di tutte queste quattro categorie, lo vogliamo dire Gaia Martens è la Winnie per Flyweight HCB Flyweight HCB che parte senza penalità dopo la prima magia Poi quando si è fatto male Quo'è il tenello? Quo'è il tenello? Ok.. Quo'è il tenello? brava brava dai dai l'ultimo brava brava è per un soffio il suo tempo è di 54 e 41 quindi un'ottima prova con Winnie per fly